Indecifrabile per ora il vero potenziale della Ferrari su cui torna Kimi Raikkonen che vinse qui a Melbourne nel 2007 al suo debutto con la rossa di Maranello. Sarebbe bello poter ripetere quell'exploit ma non ho proprio idea su quale sarà la posizione della Ferrari rispetto agli avversari. Non mi aspetto di essere davanti a tutti, spero in un weekend lineare senza troppi problemi tecnici o stop nelle prove libere. Se finiamo la corsa c'è la possibilità di ottenere un buon risultato. Grazie.